Sì, sì, sì. No, 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 no Buongiorno, sapete che l'ha stata chiusa? Così? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Il donno lascio lì. Non l'ho capito, lo diceva? Non l'ho provento, però mi lascio lì. La passano le macchine, come mai? Tieni. Hai voluto fare delle foto? Sì, sto vedendo per l'apprezzata. No, perché? Io li ho chiudo adesso. Tutte le mattine? Tutte le mattine? Tutte le mattine. Comunque tengo altre strade. Non tutte le mattine. Più preciso, più puntuale. Purtroppo vengo da rocca. Dateci la possibilità. Create, create l'alternativa. Provincia. Create, create l'alternativa. Come si è? No, no, no. Io li ho riuscito. No, no, voglio capirci un attimo. No, 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 no. Tieni. Tieni. Grazie.